Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano code a tratti per traffico verso nord, tra B1 con planare Firenze Nord e B1 variante. In FIPILI rallentamenti per lavori, tra Empoli ed Empoli Est e per traffico intenso tra Scandici e Firenze e Scandici, tutto in direzione Firenze. Al traffico ferroviario per la presenza temporanea di animali di grossa taglia tra Rigomagno e Rapolano, il regional 19.084 chiusi Siena a viaggia con 33 minuti di ritardo. Coinvolto inoltre il 19.079 Siena chiusi con 19 minuti di ritardo. Prima di salutarci, per il traffico aereo il volo Pisa-Buccarest delle 15.20 è segnalato in partenza e in ritardo alle 17.45. Muoversi in Toscana Infanservizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.